La scuola è la volta delle scuole vincitrici del primo concorso Voci Vivaci, storie di scuole che crescono, sviluppato con i fondi strutturali europei. Il concorso è stato bandito con l'obiettivo di divulgare, attraverso le voci e le testimonianze dei ragazzi e del personale della scuola, le iniziative promosse, sostenute e realizzate nell'ambito di due programmi operativi nazionali 2007-2013 del settore istruzione, ossia competenze per lo sviluppo e ambienti per l'apprendimento. Noi da sempre aderiamo ai progetti PON perché sono una crescita per tutta la scuola e in particolare per un comprensivo, in quanto noi di solito facciamo lavorare i bambini dalla scuola primaria alla scuola secondaria, anche come moduli i cui prodotti poi diventano un prodotto misto. Infatti il video con cui abbiamo partecipato a Voci Vivaci è stato realizzato da bambini di seconda elementare fino a quelli di terza media. Quindi questo proprio per dare l'idea del comprensivo che dovrebbe rappresentare una crescita dalla materna sino alla media all'interno della stessa scuola, con una continuità verticale sia di obiettivi che di realizzazioni poi in base agli obiettivi fissati. Per quanto riguarda la buona scuola, speriamo che effettivamente sia una buona scuola e che vengano mantenute tutto ciò che noi abbiamo letto sulla carta, che sia mantenuto perché poi non sempre le aspettative corrispondono ai risultati finali.